ok adesso al primo avvio di eredito vediamo come poter attivare la nostra licenza allora chiudiamo innanzitutto la nostra finestra di benvenuto e andiamo qui in alto a destra troviamo praticamente licenza demo se vediamo appunto la notifica dice attiva licenza clicchiamo su demo e andiamo inserire quello che è il nostro seriare di attivazione clicchiamo su compriamo e clicchiamo su attiva a questo punto dovremo riavviare il nostro eredito attendiamo appunto il caricamento del nostro programma e all'avvio troveremo praticamente la nostra licenza attiva jack software se invece vogliamo disattivare la nostra licenza perché vogliamo installare il programma su un altro dispositivo su un'altra postazione possiamo procedere praticamente ad eseguire la disattivazione anche dal software clicchiamo appunto sulla sezione in alto a destra della nostra licenza disattiva licenza e clicchiamo praticamente sul pulsante disattiva il programma chiederà se vogliamo procedere la disattivazione noi clicchiamo su sì e ci darà un avviso che è stata correttamente disattivata ovviamente l'applicazione sarà chiusa quindi dovremo andare a riavviare il nostro software per una futura riattivazione